Maratona di lettura di Feltre, in arrivo il prossimo anno, un grande nome. Dopo Michela Murgia e Antonio Scurati, la città punta su Gianrico Carofiglio, è giunta infatti la conferma ufficiale che il protagonista del grande evento letterario per il 2020 sarà l'ex magistrato e scrittore barese. Carofiglio è nome e volto noto a livello nazionale ed internazionale non soltanto per i suoi successi letterari, ma per l'impegno civile e politico che lo ha portato dapprima ad una carriera in magistratura e poi a sedere come senatore sui banchi di Palazzo Madama per una legislatura. Carofiglio è inoltre da anni opinionista politico, anche televisivo. Sul piano letterario ha inanellato una lunga serie di successi editoriali e di pubblico, tra cui il premio Lido di Camaiore, il prestigioso premio delle Biblioteche di Roma con Adocchi Chiusi nel 2003 e il premio Bancarella nel 2005 con il romanzo Il passato è una terra straniera. Gianrico Carofiglio lo conoscete tutti, è uno degli autori più importanti in questo momento nella letteratura italiana contemporanea. Diciamo che confermiamo un importante nome dopo il successo dell'anno scorso, il successo dell'anno prima con la Murgia, confermiamo anche il formato organizzativo della maratona. L'anno scorso abbiamo ragionato avendo oscurati su tutto il tema del fascismo, ma quest'anno, avendo Carofiglio, la maratona sarà incentrata sulla giustizia, sulla legalità e sulla percezione stessa della giustizia. Quindi sarà un tema importante, avremo anche in questo caso ospiti di livello nazionale, oltre che l'autore, ma è la manifestazione culturale della città, sono in arrivo anche altre sorprese, sicuramente una manifestazione che sta crescendo dopo anche il successo dell'anno scorso. La maratona di lettura di Feltre vedrà impegnati moltissimi lettori di varie associazioni culturali locali durante i numerosi appuntamenti disseminati per tutta la giornata in vari luoghi della città.